Buonasera, Briatore. Buonasera, ora guarda, ti riridico la storia. Che riridico? Che è successo l'altro giorno. Sì, l'altro giorno. Guarda, c'era ieri, era giorno, ma siccome ci sono passati tanti giorni, è plurale, mai d'estate, e quindi è giorni. Ma gli è stati? Sono stato, che te la riridico, dal falegname. Ah, eh. Arrivo nel posto dove fanno le lavorazioni. Sì, il laboratorio, cosa sarà? Non l'officina, il laboratorio, insomma, dove falegnamano. Cioè, ci sono tutti i segaioli, no? No, no, sono falegnamo. Entro. Sì. Io ti dico una cosa, io entro e cosa ti vedo? Cosa vedo? Dimmi cosa ti vedo. Eh, non lo so. Tutti i genti sopra ai 50 anni. Ah, eh, lo so. C'avevano le tavole di cedro del Libano che erano più giovani dei falegnami. Eh, lo so, capita. Ma tu non puoi, è la cosa che ho stupito io, vedendo i falegnami, felici perché sono entrato. Addirittura perché? Sì, perché quando mi hanno visto entrare hanno detto, finalmente c'è uno che ci dà una mano a spostare il legno a Massello. Ah, perché loro sono stanchi. Perché c'hanno tutte le protusioni. Ah, sì, sì. Ci hanno lasciato al Gia dietro. Eh, vabbè, certo. L'aria era così impregnata di Voltaren. Eh? C'era la nebbiolina di Voltaren. Sì, ma adesso non credo. Non capivo cosa era questa nebbiolina. Sta un po' esagerando. Ci avevano, poverini, i chiodi della Brondi. Ci avevano le teste grosse così, per non sbagliare, quando davano le margarate. Brondi fa anche via. Allora, io guardo e dico, quante falegnamacioni ci sono? C'erano tre falegnami. Tre. In tutto contatto sei diti. Erano così. Eh, vabbè. E quello è unico. Diti così. Mettetevi vicini, gli ho fatto una foto, sei diti. Sei diti, vabbè, in tre. Qui in Italia, io ti dico una cosa, è impossibile trovare una falegnameria con giovani, con tutti i dieci diti. Eh, adesso lasci stare i diti, però è vero che i giovani... Il fatto è che i giovani non hanno più voglia di perdere i diti. Sì, ma non è per quello. Tutti che vanno all'università, all'università. Ma cosa ci vai a fare all'università? Ma l'università è importante. Cosa potrà, producerà mai l'università? Procurrà, si dice, vabbè. Producerà solo disoccupati. Ma non è vero. Disoccupati che magari sanno che Socrate è morto mangiando cicoria saltata in padella male. Vabbè, ma lasci stare. Ma quanti disoccupati? Fatti queste domandazioni. Quanti disoccupati? Quella cicoria non la produceranno mai perché c'è un po' vorre di perdere i diti. Sì, i diti, va bene. Però è giusto che un giovane ambisca ad elevarsi culturalmente. Ma lo sai di chi è la colpa? No, di chi. Lo sai di chi è la colpa? Ma di chi lo dica. Dei giornalisti radical chic to chic. Radical chic. Che vogliono tutti un paese. Cosa volete voi? Paese di avvocati, commercialisti. Con tutti però i faretti nello studio sai che vengono giù penzoloni perché nessuno sa più fare i controsrofitti. Ah, lei dice, certo. Perché si fanno gli open space? Perché oggi c'è la moda. Perché non c'è nessuno che sa più fare i muri. Ma non è per quello. Fra dieci anni avremo un paese con tutti i cessi otturati perché nessuno sa più fare le stappazioni. Ma no, vabbè. Avremo tutti l'acqua stagnante nei lavandini perché nessuno sa liberare il buco. Dov'è finito il tappo di dentrifricio? Dentifricio si dice. No, a casa mia se il tappo è dentro si dice dentrifricio. Ma come è possibile, dico io, che oggi non c'è un giovane che ha la passione di spurgare le fosse biologiche. E c'è una delle cose più belle, è spurgare le fosse biologiche. No, no, se lo dico io perché c'è la buro, buro, buro. Burocrazia. Crazia. Crazia, vabbè, abbiamo capito. Quella, ma anche la formula mentis. Cos'è? La formula il findus vivendici, il findus acti regulares. Ma cosa stai dicendo? Che c'hanno? Sono tutte cose che c'hanno giovani d'oggi. Ah, la formula mentis. Diciamo, ma allora fallo fare a tuo figlio. Infatti, infatti. Ma io e mio figlio col cacchio che ci faccio fare subito l'imprenditore. Ah, vede, lei è duro. No, che se mi rompono adesso, mi hanno rotto tantissimo col figlio. Ma lui ci faccio fare la trafila. Cioè? Ci deve fare la trafila come un qualunque altro figlio di milionario col culo al caldo. E chissà che trafila, quindi. Ma mio figlio, prima di diventare manager, deve assaggiarne di poveritudine. Mio figlio, non è che ci faccio fare subito l'imprenditore. No, ecco. Col cacchio. Un po' di gavetta. Prima fa 5-6 anni di cameriere. Bravo. Ma prima di arrivare a fare il cameriere, gli faccio fare 5-6 anni di quello che sta fuori dai bagni col cestino. Addirittura. Dove raccoglie i soldi delle urinazioni. Sì, sì, quelli che vanno in bagno e lasciano i soldi. Sì, sì, sì. E se poi magari vuole la mancia, magari glielo scorolla. No, vabbè. Non arriva. Quelle sono cose che produceranno in lui la competenza, l'esperienza. Ma non è che mi diventi imprenditore dopo la scrolata. Prima mi deve fare 7 anni da portatore di carrello dei bolliti. E continua a fare, certo. Non è che porti subito i bolliti. Prima ti devi leimare le mani, dopo la scrolata. Spero bene per lui. E a quel punto può farci i suoi 22 anni da chef d'eran, 37 alla cassa e 41 anni potrà fare l'imprenditore. Non tornano i conti. Vabbè, ma io ho detto dei numeri così, ma magari glielo faccio fare martedì. Ah, ecco, è più facile questo. Lo sai cosa ci dicono ai giornalisti radical chic to chic? Radical chic, eh. Che nella vita non hanno mai lavorato, che devono venire da me a fare esperienza di sgrullatori. Così capischeranno che non si può essere tutti universitari con i diti attaccati. Perché altrimenti questo resterà sempre un paese pieno di diti, ma sfalegnamato. Sfale gnamato. Sfale gnamato. Ok, chiaro.